Giovedì sera a Mantua significa shopping night e il secondo piano di BP Factory si è trasformato in una vera e propria spa per bambine da 2 a 12 anni. Grazie alla collaborazione di Island Spa davvero le bambine sono immerse in un'atmosfera magica con tante coccole e tanti trattamenti per loro. Un evento nuovo per la città di Mantua che si ripeterà ogni giovedì sera in occasione delle shopping night e che coinvolge le bambine. Sì, noi ci occupiamo di benessere, benessere per gli adulti, abbiamo questa spa a Bagnolo e non abbiamo mai pensato che potesse essere anche un evento bello per i bambini e per le bambine e ci siamo ricreduti perché abbiamo creato in occasione di questa shopping night, abbiamo voluto creare un evento dedicato alle bimbe e direi che i numeri parlano da soli, sta piacendo moltissimo. La qualità dei servizi che offrite e dei prodotti che utilizzate ha incontrato la qualità di BP Factory. Esatto, penso che il binomio sia proprio quello, siamo frizzanti nel creare, nell'inventare eventi, nel creare cose nuove ma non solo. Lavoriamo perché la qualità sia sempre al top, è altissima, quindi questo è il binomio direi vincente. Un binomio che ha già avuto successo negli anni passati dove abbiamo fatto un evento per le mamme, questa volta abbiamo pensato di dedicarlo alle piccole che hanno stragradito e di conseguenza l'evento si prolungherà per tutti gli shopping night. Di conseguenza mentre le bambine riescono a farsi il massaggio e il trattamento, le mamme riescono tranquillamente a guardarsi i loro capi. Una spa party per tutte le nostre clienti più piccole. Sono iniziati gli shopping night, quindi è iniziata la voglia della gente per uscire, per poter fare lo shopping serale. Durerà fino a fine luglio e di conseguenza volevamo aprire con un evento diverso dal solito, dedicato questa volta alle bambine. Quindi una spa, un'island spa trasferita al BP Factory. È stato un successo e quindi questo appuntamento si ripeterà per ogni giovedì di shopping night, come si può partecipare? Basta telefonare in negozio e cercheremo di accontentare le esigenze di ogni bambina, distribuite in tutti i giovedì fino a fine luglio. Moda uomo, donna e bambino, BP Factory veste tutta la famiglia. Non perdete gli eventi del giovedì shopping night qui da BP Factory in piazza Concordia a Mantua. Per maggiori informazioni visitate la pagina Facebook.